ciao ragazzi oggi vi farò vedere come funziona la turbina del motore questa è una 500 abart e la turbina è lì molto facile da individuare cosa succede che l'aria esterna arriva da qui viene filtrata e poi arriva alla turbina se il motore non avesse il turbo quindi fosse un motore aspirato a questo punto dopo il filtro l'aria entrerebbe già nel collettore di aspirazione in questo caso invece autoturbo cosa succede la turbina ha una girante nella parte aspirazione e un'altra girante nella parte scarico questo è il collettore di scarico da cui escono i gas una volta che hanno partecipato alla combustione passando questi gas fanno ruotare la girante scarico della turbina la quale è collegata tramite un alberino a un'altra girante che si trova nella parte aspirazione quindi sfruttando il movimento dovuto dal passaggio dei gas di scarico noi riusciamo a far ruotare una girante nella tua aspirazione questo cosa serve serve a far sì che gas oltre ad essere aspirati normalmente siano risucchiati e quindi compressi ovvero la quantità che ne possiamo aspirare è maggiore così come la velocità questo purtroppo ha un effetto negativo ovvero che questi gas da essere freschi dopo aver subito questo passaggio diventano molto molto caldi per questo motivo l'aria non finisce subito nel motore ma passa in un intercooler che la raffredda e poi tramite questo tubo arriva finalmente al motore l'intercooler è un radiatore aria aria ovvero raffredda l'aria interna calda sfruttando la temperatura dell'aria esterna che è più fresca quindi una volta che poi l'aria arriva al motore partecipa alla combustione arriva nel collettore di scarico ed esce la turbina ci dà energia gratuita tra virgolette perché i gas di scarico comunque devono uscire visto che escono ne approfittiamo per far dare una giratina al girante lato scarico la quale farà girare la girante lato aspirazione chiaramente queste due parti sono separate non è che i gas delle due parti entrano in contatto ma solo il movimento al prossimo video ciao